Allora, arriva alla fine il mandato della Commissione von der Leyen 1 e questo rende i commissari europei più aperti nel dire davvero quello che pensano, nel dire davvero quello che serve all'Europa. E in queste ultime settimane l'altro rappresentante, Giuseppe Borrell, si è scatenato a dire la verità, quella che non ha potuto dire nei quattro anni precedenti, in cui ha dovuto cercare di trovare faticosi compromessi verbali su dichiarazioni europee sostanzialmente irrilevanti a modificare il quadro di potere mondiale. Ed ecco che nell'ultime settimane, partendo dal seminario di Ventotene, organizzato dai federalisti, fino a tutte le successive apparizioni pubbliche, Borrell ha detto la verità, l'Europa non conta nulla se non si unisce, se non si dota di una vera politica estereuropea, se non si dota di una difesa europea, continueremo ad essere spettatori irrilevanti sperando che qualcun altro faccia la mediazione. Per cui noi siamo i primi partner commerciali di Israele, i primi donatori di aiuto in Palestina, ma non contiamo niente. Eravamo il primo partner della Russia, ma non riusciamo ad avere un ruolo rispetto alla mediazione in Ucraina, che tutti stanno aspettando le elezioni americane, non stanno aspettando la nuova Commissione europea e così via. Borrell ha detto la verità, un uomo che è stato sostanzialmente impotente per quattro anni, perché nonostante ci abbia provato, il suo ruolo non gli permetteva di fare le cose, non gli dava le competenze e i poteri necessari per avere davvero una politica estereuropea, doveva solo cercare di mediare tra i 27 ministri degli esteri per riuscire a fare un comunicato congiunto a tarda notte dopo estenuanti negoziati. Ecco, finalmente, ora che sta lasciando il mandato, Borrell può dirci la verità. Ci ho provato, non è stato possibile, vi dico quello di cui c'è bisogno. Speriamo che tutti ora ne facciano tesoro.